C'è chi la definisce un volano, chi invece preferisce chiamarla una porta aerei per far decollare l'economia piacentina. Si tratta di Piacenza Expo, l'ente fieristico di strada caorsana che dopo lo stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria riparte con un nuovo assetto societario. La novità è che la regione Emilia-Romagna, inizialmente intenzionata ad uscire dalla compagine societaria, ora rilancia aumentando le sue quote in un progetto industriale che considera moltiplicatore delle filiere del territorio piacentino e regionale. Abbiamo deciso come regione, a breve, consegniamo alla nostra assemblea regionale una proposta di legge che ci permette di creare un moltiplicatore sulla fiera di Piacenza. Prima volevamo uscire, il presidente Bonacini ha cambiato idea e quindi è intelligente cambiare idea e abbiamo deciso non solo di entrare ma di entrare 4-5 volte rispetto a come eravamo nel passato. Una operazione considerata positiva dal sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri. A fronte di un lavoro che si è protratto nell'ultimo periodo molto intenso, anche di grande soddisfazione, vi è stato da parte della regione un cambio nella valutazione e questa volontà di impegnarsi fortemente e quindi anche concretamente in quello che può essere un rilancio dell'ente fieristico piacentino. Un lavoro importante sottolineato dall'amministratore unico Giuseppe Cavalli. Piacenza Expo sarà ancora più forte e lo dimostreremo con calma con il nostro programma che quest'anno era molto interessante e avevamo circa 7-20 nuovi che però abbiamo cercato di conservare e li abbiamo praticamente spalmati per il prossimo anno. La fiera piacentina assume quindi pari dignità del sistema fiera regionale fondato sulle relazioni. Tenere le relazioni se riparte il mondo tu ci sei, tenere le relazioni riparte il sistema economico, se parte il sistema economico si crea lavoro. Un euro di acquisto di fiera di un prodotto crea 3-4 euro nel sistema di filiera. Grazie. 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 Grazie.